La grandiosa adunata di 50.000 rurali, affluiti all'ittoria da tutti i comuni della provincia per dare con una imponente manifestazione di massa il loro cordiale benvenuto al ministro tedesco Darre, capo dell'agricoltura della grande nazione amica. Da un palco in piazza 23 Marzo, l'ospite che era accompagnato dal ministro Rossoni ha assistito alla pittoresca spilata dei rudali dell'agro, aperta dalle formazioni giovanili di Vittorio. Grazie a tutti. L'offerta all'ospite dei doni agresti che con la loro opulenza attestano la veracità di questa terra redenta dal fascismo ha suscitato l'entusiastica ammirazione del ministro germanico.